Gennaro per noi è un elemento importantissimo perché ha delle qualità che riesce a spostare anche gli equilibri di una partita. Verrà sostituito da forte e poi valuterò se giocare con due attaccanti, con un trequartista. Sono considerazioni che farò, però sono convinto che a prescindere dall'assenza di Gennaro, che per noi, ripeto, è un'assenza importante anche il sud di Tirolo, ma anche la Casiraghi, che penso che a livello di equilibrio nella squadra del sud di Tirolo sia come Gennaro da noi. E quindi mancheranno due elementi importanti, ma credo che alla fine ci siano anche altri elementi altrettanto importanti che non faranno sicuramente rimpiangere Gennaro e daranno anche qualcosa in più anche per l'assenza di Gennaro.